Introduciamo, prima di consegnarle il diploma, il prossimo giovane che verrà votato, quindi è naturalmente anche lui molto emozionato, lo chiamiamo Alex Britti. Allora, rappresentato da Carla Fracci, Alex Britti, prego. Di Alex Britti, Oggi sono io, dirige l'orchestra Federico Capranica. Canta Alex Britti. Carla Fracci ha presentato il festival di Sanremo. Grazie. Grazie. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra facile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei parlare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai, come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte, come stai bene, come stai bene, come stai bene, come stai bene, come stai bene. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piace per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non mi frega niente, se dovrò aspettare ancora per far darti finalmente, dirti solo una parola. Ma non c'è più che posso, come il mare e come il sesso, finalmente mi presento. E così, anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente, se non è successo ancora, spenderà un po' nel momento, e non sarà la volta sola. Spero più che posso, che non sia soltanto un sesso, questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo, che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero, o forse sei solo un'illusione. Però stasera mi rilasso, penso a te, e scrivo una canzone. Non c'è più che posso, come il mare, come il sesso. Questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Io ti sono io, 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 io. Alex Britti, le giurie hanno votato. Letizia, adesso cosa c'è? Adesso c'è la pipicità. E allora ci vediamo? A tra poco! A tra poco! A poco! A presto! A presto!